ah si ma... no! stai zitto, ogni volta che mi dici qualcosa a te succedono i casini, per favore stai zitto, per favore grazie te volevo solo dire se hai visto Sherlock perché me l'hai detto? non lo so ma è importante ma che è importante? vabbè arrivederci Sherlock è una delle serie tv che ho maggiormente apprezzato nell'ultimo periodo perché me l'ha detto? perché me l'ha detto? ma non l'ho presa bene e perché me l'ha detto? benvenuti in Sherlock effetti collaterali oh ma e da quant'è che fumi te? questo non ti riguarda Moriarty ma che sei scemo? io non sono Moriarty ma... ma... cadavere fresco ma... perché c'è il cadavere della signora del terzo piano sul letto? perché il cadavere di una signora è sopra il mio letto? un attimo devo entrare nel mio palazzo mentale ah L'ho uccisa per poi frustarla Per capire da quant'è Che il cadavere era morto Come ho fatto? Come sempre Watson ti limiti a guardare Non ad osservare Ho visto i libidi Quelli di un cadavere fresco compaiono prima Ma perché l'hai fatto? Davvero non capisci? Oh mio Dio ma sei un idiota No no tranquillo la maggior parte delle persone lo è Comunque l'ho fatto Semplicemente per capire chi è stato ad ucciderla Hai appena detto che sei stato te ad ucciderla Lo so lo so non sono un genio però E che mi limito ad osservare Watson capisci? Mi limito ad osservare quello che gli altri invece guardano soltanto Ma comunque grazie per la tua ammirazione Oh che c'hai? Devo evacuare E quindi? Il bagno Non è normale Di solito ci vado tutte le mattine alle 7 e 30 Inoltre è di una consistenza più liquida Liquida? Liquida John Ho la diarrea Ah e vabbè avrei mangiato cioccolata Cioccolato? Quando l'ho assunto? Ma non saprei Esci Scusa perché? Devo entrare nel mio palazzo mentale Senti io nascondo il cadavere della vecchietta del terzo piano E poi parliamo un attimo eh Hanno suonato per andare ad aprire? Sono occupato Ho appena finito di nascondere il cadavere della vecchietta del terzo piano per favore Vai ad aprire Moriarty non avrà mai la meglio Ma il monitor sped Lo so Lo sto facendo mentalmente S-s-saddo Chi è Moriarty? Moriarty è un passo psicopatico che vuole mettermi alla prova sfidandomi con attacchi terroristici di dimensioni enormi E' un passo davanti a me su tutto Sa persino dove abito Come fai a saperlo? Il polo nord è diminuito del 21% e lui ha due gambe E quindi? Come sempre ti limiti a guardare e non ad osservare Watson Se accosti il 2 al 21 viene fuori il 221 e noi guarda caso abitiamo nel 221 di Baker Street Ma non è vero! Non riguarda solo noi Watson riguarda la nostra Londra Come fai a fregarteli così tanto? Viviamo a Cilinova! Hanno suonato? Vado io Il tuo ultimo video ha fatto ben 100.000 visualizzazioni Mi oddio ma sono tantissime Sei tipo bravissimo Non sono bravissimo Sono solo un sociopatico operativo Come ho fatto? Semplice Come sempre ti limiti ad osservare Watson Sì ma te l'hai visto? Non stacce Non stacce Due volte Due volte Non stacce Non stacce Non stacce Sì ma... No 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 Stai zitto No te l'ho fatto dire Rifamolo Rifamolo Moriarty è un pazzo psicopatico che... Che cazzo sto a dire? Fuoco pure che mi sposto di fuoco Allora girate e vedi se c'è sta di te Non credo eh Ti volevo solo dire Ti volevo solo dire Se avrei visto Sherlock Ti volevo solo dire se avrei visto Sherlock Ti volevo solo dire mortacci tua Ti volevo solo dire